Non lo so, io non so, francamente come avete visto lavoro più di prima nel mio impegno di Presidente della Regione Toscana ma con altrettanta franchezza rispondo che non seguo tutto il chiacchiericcio politico perché penso che la maggior parte dei compagni, degli amici, dei cittadini fanno altro credo che bisogna mantenere in vita l'unità, credo che bisogna abbonarsi all'unità e farlo veramente io finora non l'avevo fatto, l'ho fatto, invito i dirigenti del mio partito a tutti i livelli ad abbonarsi davvero dai parlamentari fino ai sindaci, fino a tutti coloro che svolgono un'attività politica e poi a chiamare i segretari di federazione e a vedere se attraverso questi a livello nazionale e poi regionale ricostruiamo una filiera di responsabilità che porti alla promozione di questo giornale naturalmente il giornale deve essere ancora più plurale, deve essere ancora più aperto stamani mi permettevo di citare Antonio Gramsci, lui diceva il giornale non deve dipendere dal partito figuriamoci un po', eravamo nel lontano secolo scorso, primi decenni del secolo scorso, 1924 grazie grazie